Ben tornati su Resident Evil 6, siamo all'ultima campagna, quella di Ada, sarà quella in cui bestemmiere ho di più PERCHE SONO DA SOLO DI OKANE! Cioè senza partner, io ci sono sempre Posso mettere agente, Jimmy? No 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 Over here! This way! Simons? 8.01 It's been a long time Not long enough I see you still like to play games Old habits Besides a phone call can be so impersonal What is it you want? I received some very interesting intel on you, Miss Wong Intel that will greatly influence your future Curious? Non in più. Mi sapevo che non puoi resistere. Sono solo qui per capire cosa stai. Allora, per tutto il modo. Procedi. Quindi lo sai, level 4 ha bisogno di un prezzo per accesso. Mi sono sicuro che ci saranno riconoscendo. tu hai il mio figlio a file tu non stai giocando, tu? oh, ho molto più che il tuo figlio, Miss Wong tu vedrai buona luce ok, Simmons, vediamo cosa stai Una balestra, un coso... Non c'è un cazzo! E cinque pasticche curative. Non mi devo far scoprire qua, perché sennò minchia faccio scattare un macello, Jimmy. Attaccati alla parete con L1. E gli fai l'attacco speciale, posso non riuscire a me. Attaccati, L1. R1. Stessa cosa in questa parete. Vai avanti. Qua, mettiti. Minchia stiamo uscendo stealth, Jimmy, hai visto? Allora, puoi dire... Oh, porco Dio, porco Dio! Cioè, non sei. Non è, vai a sinistra, dai. Penso di questo è scoperto. Perché ho visto che stella fermata. Dai! Aspetta, fammi vedere dov'è. Anzi tu, ok, lì mi scopre. Deve andare verso di là. Non devi andare di là. Vai sotto, il coso. Porca Madonna! Ora qui ce n'è uno di fronte a te. Dove? Oltre sta porto. Oh, porco Dio! Sta venendo di qua. Non ci passa davanti. Ok. Questo anche è morto. Scusate, raga. Oddio, cane! Ok. La prima parte è fatta. Questo deve essere il nuovo bambino che ho sentito. È inutile che ti levi la balestra. Devi sempre ricaricarla. Ogni colpo. Qua c'è un emblema. Jimmy, ricominciamo! Sposta sta cosa. Ed entra qua dentro. A meno che non vuoi farti tutti i giappos con le mitagliatrici giganti. Non sapevo, sai che stai... Complimenti. Io mi ero fatto tutti i giappos con le mitagliatrici giganti, io lo sai. perché è un coglionato. C'è un coglionato. Tu sei andato su a prenderti la cassa che vuoi. L'intelligenza non ce l'hai? Che se vai lì. Anche il giappo non mi vedo, no? Secondo te. Ah, si metti di cambiare arma. Amica, non è che devi ricarichi. Mamma mia, Jimmy, come sei? Ehi, mi spreghi, ti tempo. Hai cambiare arma, piuttosto di metterti la freccia. E manco muoiono. Non muoiono, è perché mi infligge un cazzo con la palestra senza potenziarla. Eh, quelle esplosive. Prova ne qualcuna. No, non le si mette adesso. Eh, però muta. Ok, uno è morto. Oh, morti. Era meglio passare. Oh, ma sto coso lo... Usa la mitagliatrice. Che cazzo? Adesso qua non devo far scattare l'allarme. Prima prendite la stamina che non è niente. Dai, vieni. No, non mi direi che mi hanno scoperto già. Non lo so, ti sei fatto vedere. Porco Dio! Complimenti. Una cosa giusta non la riesco a fare. Ok, due morti. Dove è il terzo? Spreghiamo munizioni. Spreghiamo. Voglio vedere come ti fai. Tutti così da soci. Dov'è, 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 dov'è? Dov'è sto stronzo? Scurami. Ma vaffanculo, va. Emblema. Non mi rompe i coglioni, Jimmy, con questi emblemi. Piuttosto dimmi se ci sono erbette o eccetera. Tu mi rompe i coglioni che non sai giocare a questo gioco. Io ti non volevo vallare con gli emblemi. Non mi direi che mi sparano. Forse stanno sparando a Chris. Cerca le erbette. Jimmy, io non me lo ricordo qua l'enigma. Guarda l'immagine. Tu non avevi un po' di taste, non c'è, Simmons? Sai che ti infligge vita qualcosa? Sì, come tua madre infligge. Eh, lo so, lo so. Allora, innanzitutto cosa devo attivare? Guarda lei intanto dove ti manda la cosa. È fermata. Questo va a necessare un piccolo esplice, credo. Guarda quella capra di merda. Guarda prima dietro, poi ritorni al pulsante. Ok, non si può fare neanche una speed run decente in sto gioco. Devi per forza esaminare poi. Ah, devo... Ok. Allora, vediamo un po' cosa devo fare. O ci uscirà o la serpe o non lo so. È uscito il pesce, il pescione. Eh. Quindi devo fare il pescione. Allora. No. Ok. Mmh. Poi. Ok. Giusto? Sì. Ah, questa è la pinna. No. Penso sia l'altra. Eh sì, era quella di prima. Porco Dio! Ah, smetti di premere di continuo. Questa è la pinna. Poi. Questa. Questa è un piede. Ala. Mi sembra questa. Vediamo un po'. Scossa? No. Qua c'è qualcosa che non va. Non fare come le professoresse delle reti. Dall'altra parte. Ok. Dovrebbe essere questa. No, questo è un piede. È un piede. No. È un piede. Devi prendere quella tutta frastagliata. Che sembra tipo l'alla di un coso. Eccola. Questa, dici? Sì. Grazie. Se non sai quanta vita mi infliggeva questo. Non ti voglio un cazzo. Porco Dio! Porco Dio! Oh! Oh! I'm guessing team work isn't a strong point around here. Offing your own crew's gotta be bad for morale. Aspetta, però, fammi vedere se non c'è. Oh! Ok, perfetto. Quindi qua mi sai poi di non fare altro che curarti di continuo perché nessuno ti riaminerà. Perciò rie, eh, curati tutta la vita. Ma che devi aspettare che ora ci sono tutti i nemici che ti scondano alla porta? Ma veramente? Certo! Non ti ricordi, cioè tu non hai mai giocato a queste campagne, vuol dire. È un first play per te. Da dove ti scondano Jimmy? Da qua! Di qua, vero? Si va bene, mentre ci sono filmatino e ti sparano intanto. Ti metti la granata pronto. Anche quell'esplosiva va bene. Ma se non togli qua la sicura, perché come fate a esplodere? Esatto. Devo dire, è enorme quella cosa, perché non la togli prima. Non ricordo quell'esplosiva. Magari sono passati a qualcuno di altri. Sì, vabbè, adesso ti sparano. Perché non tutti fanno tutto sto filmato. Wow, non ti hanno colpito? Sono stupido. BOOSHIA. Fai la forza, dillo pure tu. BOOSHIA. Porco dio! No, questo non me ne ricordavo. Vabbè, vai, vai, corri. Devi sedere tu quel coso. Sempre il dritto. Devi sedere. Sì Ecco ho fatto aiutare la mitraghetto Ormai No, 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 no No, 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 no No, sti così non muoiono mai Jimmy Che cazzo è? Si è frizzato tutto? No, no, no Corco Dio Vai qui E saliti là sopra Vai qua, sinistra Ok No, no E adesso qua puoi morire Qua devi attivare tutte le mitragliette Ti posso aiutare Grazie Tra poco trovi il più pieno Vabbè se scendi tu giù C'è la mitraglietta Puoi attivare Io stai Aspetta Fai che Io qua sento qualcuno che mi vuole affettare Dai, vieni fuori Finito di affettare Finito di affettare Che cazzo è che stai affettando Tua madre Vieni fuori Vieni fuori Vieni fuori Vieni fuori No Ok Ok Aspetta Ti poteste pirouette Oh porco dio Alla fine di quel corridoio C'è una torretta E puoi utilizzare tu Lo so Non vale La schivata da quella balestra Non serve a niente Ok Quello è morto E' una cosa soltanto per te Guarda come un testo Dai porco Quanti ce ne sono ancora Lì Non ci sono ancora troppo Non pensarci nemmeno Cioè a me mi colpisce Penso la mitragliatrice Vero? Non ti colpisce la mitragliatrice Mamma mia Ah quindi è con me la mitragliatrice? Sì Ah io pensavo che Dovete scrivarla Ok L'ha pure detto Mira l'equipaggio Non c'è non a me Che è un'erba vera Che è assorto A sinistra Ehm Gino non c'è tanti Minchia che palle Con sta cadenza Del proiettile Se vai lì Attiva la mitragliatrice Gli spara Dai No me lo son fatto Me lo son fatto Jimmy Attivala comunque No non mi serve Non mi serve Bene Fine episodio Grazie a tutti